Ciao a tutti, oggi sono qua per fare un annuncio molto speciale qua sul canale perché è una cosa mai fatta prima da me Per il mese di dicembre ho intenzione di fare un video al giorno da qui al 24 Partono quindi oggi ufficialmente i cibi mass Dovete sapere che da quando ho aperto il canale ho sempre, sempre desiderato fare questa tipologia di video sul mio canale Ma ogni anno sorgeva un imprevisto, è sempre successo qualche cosa Anche quest'anno non sono certissima, non ho solide certezze Però voglio comunque impegnarmi Devo essere sincera, non so se riuscirò veramente a fare un video al giorno Perché non mi sono preparata prima il video Quindi sarà veramente tosta lavorare ogni giorno a un video Anche perché dal 18 dicembre io parto Quindi ci sarà una settimana che dovrò cercare di organizzare prima E non so come farò Però voglio veramente impegnarmi e mettermi alla prova Perché è una cosa che ho sempre desiderato fare Quest'anno poi sono in una casa mia Quindi dai, dai, io sono super gasata all'idea di fare questo progetto Durante questo mese troverete i video sia inerenti alle festività, al Natale Che i soliti video, i soliti video, i soliti video che porto qua sul canale Quindi potrebbero esserci TBR, haul di libri, vestiti, letture a tema che ho intenzione di fare Potrebbe esserci anche una guida diciamo per gli acquisti Anche se è una cosa che faccio quasi ogni anno Quindi ho paura di ripetermi e ho paura che non vi sia utile o interessante Quindi mi raccomando qua sotto nei commenti fatemi sapere quali video vorreste vedere durante il mese dei cibi mass Ci saranno quasi sicuramente delle ricette sia di bevande che dolci Spero che vi piaccia come idea perché io sono già super pompata al riguardo Ci saranno video discussione che non riguardano strettamente il Natale o i libri Insomma ho delle idee Il più è trovare il tempo di filmare ed editare Durante questi giorni potrete trovarmi nella solita postazione classica qua con tutte le lucine lilla Oppure questa nuova postazione super natalizia Devo ancora capire bene se posizionare proprio qua la fotocamera o meno Però mi piacerebbe avere come sfondo l'albero di Natale per quanto riguarda i video natalizi per l'appunto Tra l'altro questo è un piccolo spoiler dell'albero di Natale Perché in realtà io mi sono filmata mentre montavo e addobbavo l'albero Quindi non guardatelo troppo E nulla questa voleva essere una piccola presentazione del progetto E una sorta di contenitore per tutti i vostri consigli e richieste che avete per la Cibimas Mi raccomando se volete dei tutorial, dei video a tema o qualcosa in particolare Ora un my view Io vi saluto e ci vediamo domani, sì domani con un altro video Ciao Ciao